È il giorno del Black Friday, diversi negozi hanno già iniziato, gli sconti che dureranno fino a lunedì dal 20 al 70%. Siamo andati a sentire com'è andata questa prima mattinata. Io sono sempre molto contenta quanto ci sono gli sconti, quindi sto andando in giro per vedere se ci sono altre cose da acquistare. Che cosa comprate? Ho comprato dei libri, ho comprato un po' di capi d'abbigliamento e adesso andrò a vedere le scarpe perché sono il mio amore più grande. La giornata di shopping più lunga dell'anno è partita questa mattina con la festa dedicata ai consumi. Molti pesaresi hanno approfittato del Black Friday dalle prime ore del mattino facendo tappa nei negozi del centro storico per acquistare capi a prezzi stracciati. L'appuntamento con gli sconti proseguirà fino a lunedì 30 novembre, giorno del cosiddetto Cyber Monday dedicato agli appassionati di tecnologia. Per qualche commerciante è un'occasione per recuperare le vendite dei mesi precedenti che hanno portato miseri guadagni nelle casse degli operatori. Sicuramente un'occasione. Noi i mesi precedenti abbiamo lavorato ma molto molto poco. Abbiamo iniziato a fare una vendita promozionale da circa 3 o 4 giorni in occasione del Black Friday e abbiamo visto un po' di movimento. Una scontistica che non è molto alta perché comunque arriviamo a un 20% su alcune cose, su alcuni prodotti anche il 50%. Però non è semplice per noi commercianti perché facciamo molta fatica. Allora per noi è un'occasione perché comunque adesso per il periodo che stiamo passando alla fine con le promozioni si riesce un po' a lavorare. Anche se noi comunque come azienda e come catena lavoriamo sempre abbastanza bene quindi non ci possiamo lamentare. Il tipo di sconti avete applicato e fino a quando? Allora noi abbiamo applicato dalla settimana scorsa il 20%, poi durante la settimana abbiamo fatto il 30%, questo weekend faremo il 50%. Io sono partita con il 30%, ci sono anche qualche occasione al 50%, tutti gli accessori, sciarpa, tutto. C'è chi invece ritiene che il Black Friday sia stato uno svantaggio soprattutto per i piccoli commercianti. Per i veri commercianti è uno svantaggio, per i nuovi che hanno bisogno di aprirsi a nuovi clienti forse è un vantaggio però si trovano male perché non possono fare più di un tanto se non ci stanno dentro ai costi. Nonostante questo lei ha aderito al Black Friday con quali sconti? 15% solo tanto per accontentare qualche cliente. Ad ogni modo gli sconti sono partiti, in alcuni casi già dal 23 novembre scorso, su ogni genere di settore e prodotto. L'occasione giusta per concedersi le più pazze spese, anticipando anche qualche regalo natalizio. L'occasione giusta anche per fare una scorpacciata di regali natali? Sì, adesso magari scorpacciata no, però qualcuno sì, già cominciamo. Ha trovato buone occasioni? Intimissimi, sicuramente. Certo, poi di questi tempi è un'occasione unica anche per i negozianti. Anche per anticipare qualche regalo natalizio? Certo. Queste giornate, oggi no, ormai abbiamo fatto, però in queste giornate ci abbiamo pensato. Sì, sì, sicuramente abbiamo già visto qualcosa, ha fatto la lista e quindi sicuramente tra oggi e domani, sappiamo fino al 29, no? Approfitteremo.